buongiorno oggi parliamo di prodotto del prodotto della somma di due monomi per la loro differenza ora consideriamo due monomi a e b abbiamo che a più b quindi la somma dei due monomi per a meno b la differenza dei due monomi è uguale al quadrato del primo monomio meno il quadrato del secondo monomio quindi a alla seconda meno b alla seconda perché la somma di due monomi per la differenza di due monomi è uguale al quadrato del primo meno il quadrato del secondo se noi svolgiamo il prodotto di questi due binomi quindi a più b per a meno b semplicemente come se fosse come prodotto di binomio prodotto di polinomi abbiamo il primo termine del primo polinomio del primo binomio per il primo termine del secondo quindi a per a è alla seconda a questo punto moltiplichiamo a quindi il primo termine del primo binomio per il secondo termine del secondo binomio quindi a per meno b ovvero meno a b poi passiamo al secondo termine del primo binomio b per a quindi più b per a più b per meno b quindi più per meno fa meno b per b è uguale a b alla seconda ora riscriviamo a alla seconda meno a b per la proprietà commutativa del prodotto della moltiplicazione b a è uguale ad ab quindi riscriviamo più a b meno b alla seconda notiamo che meno a b e più a b sono termini opposti quindi li posso semplificare di conseguenza a b per la proprietà ci troviamo come risultato alla seconda meno b alla seconda notiamo che il risultato è lo stesso quindi quando ci troviamo in una situazione del tipo prodotto della somma di due monomi per prodotto della loro differenza posso evitare di fare tutti i calcoli e ricordarmi semplicemente che il risultato è il quadrato del primo monomio meno il quadrato del secondo monomio ora il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza è il primo prodotto notevole nei prossimi video vedremo anche gli altri prodotti notevoli ora facciamo un esempio di prodotto della somma di due monomi per la loro differenza quindi consideriamo per esempio il binomio 3x meno 2y ora eleviamo il primo termine alla seconda quindi in questo caso a è il primo termine quindi 3x e b è il secondo termine quindi 2y in questo caso abbiamo messo prima a meno b abbiamo prima a meno b e poi a più b quindi è indifferente posso scrivere prima a più b e poi a meno b o prima a meno b e poi a più b quindi quindi otteniamo che il primo termine 3x alla seconda meno il secondo termine 2y elevato alla seconda di conseguenza otteniamo 3 alla seconda 9x alla seconda meno 2 alla seconda 4 che moltiplica y alla seconda quindi abbiamo che 3x meno 2y per 3x più 2y uguale a 9x alla seconda meno 4y alla seconda bene per il momento è tutto arrivederci al prossimo video quindi